Buon sabato ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono alla stazione del Duomo e vado fino a Pagano, in teoria io devo andare a Rofiera però il treno diretto vi sceglie, quindi io prendo questo revamping e vado fino a Pagano. Naturalmente il viaggio è completo con tutti gli onigi e con tutte le stazioni. Grazie a destra, i gioves in pobano per la right, per il centro di sostegno, please hold out the lavatory. La vera è la vera, 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 la vera è la vera. La vera è la vera, 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 la vera è la vera Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.